10 anni fa male 100 10 10 10 10 10 11 11 11 13 12 13 15 13 14 14 14 15 15 17 19 19 19 21 19 19 20 21 22 ma picciolato tu non stai a cazzo, non stai a cazzo dai, stai a te questa è la prima volta che mi dicevo a me non è stanza io sono vivo eh? io sono vivo, non so che ho fatto chi è? però sai che se manca il tuo padrino o il triggio in una quale un'altra manca dipende tutto questo c'è il cuore quando c'è che c'è fatto il buon teo tutti ci dicevano che c'è poco buona c'è calava la manca, c'è la piera però non posso scuittare perché qua ho già dato non ho pensato mai che ho dato in sé scuittare c'è dato un secchio a tempo nuovo non possiamo andare a casa manca come